vocabolario alla mano ci siamo messi a caccia di parole difficili e stavolta ne abbiamo trovata una davvero impossibile sapete cosa significa levirato ma non è l apostrofe virato sarebbe troppo facile e anche un tantino doloroso porca miseria levirato sinceramente mai sentito levirato una cosa che vuole non lo so non l'ho mai sentito ma è per le iene l'ho sentita però non mi ricordo il significato non la conosco una cosa che vira che va da un'altra parte non lo so proprio guarda che alliviato che vuol dire liberato da un problema no no veramente io non so penso a qualcosa levigare mai sentita non riesco manco ad usare la fantasia in questo momento guarda questo freddo che ti blocca anche dicesi levirato l'istituzione secondo la quale un uomo ha l'obbligo o semplicemente il diritto di sposare la vedova del proprio fratello era poi così difficile facile grazie per una cosa nuova abbiamo imparato un altro termine quindi levirato